ciao ragazzi benvenuti buona domenica per qualche news importante per crack apart youtube abbiamo delle novità in arrivo in particolare questa settimana e per le prossime ve le faccio vedere direttamente con le anteprime abbiamo una nuova rubrica che poi dovrete anche votarmi darmi un parere su ciò insomma un crimine al giorno una piccola pillola di crimine 365 giorni l'anno qualcosa che vi dovrebbe tenere compagnia in maniera martellante su questo tipo di contenuto e soprattutto questa settimana abbiamo ovviamente come al solito la botteguccia dei sigilli per quanto concerne il giovedì sera con una puntata importante che tratterà di dittatura occulta haiti voodoo zombies la storia che lega la politica l'occulto l'esoterismo alla nascita dell'immagine degli zombie in haiti e poi ovviamente in tutto quello che è cinematografia e quant'altro e venerdì abbiamo un incontro importante con un amico un autore e credo un autore futuro importante della letteratura italiana nero tribici che ci presenterà il suo la sua raccolta di racconti stige con il racconto che dà il nome al libro e poi una serie di contenuti che trattano dell'ambiente padre figlio fra narcisismo e una punta di di occulto che come ho detto lo qualifica come un personaggio che parla un po alla david lynch e sono contento di poterlo presentare quindi queste le news della settimana mi raccomando un'idea un parere anche su quelle che sono i crimini del giorno saranno veramente delle pillole brevi io vi do velocemente la buona domenica perché era veramente giusto un saluto veloce con tutta questa meravigliosa pioggia che cade lì fuori e che solletica la botteguccia dei sigili e crack apart youtube in generale io vi do un bacio e ovviamente in attesa anche di lui e delle sue maledizioni al telefono con crack apart phone buona domenica ancora ciao ciao da il io crack apart Grazie a tutti.